In arrivo quest'estate. Finalmente ci sarà un film su di me! La storia del più grande alleato di Batman. Sono io, devo essere io! E il miglior amico a livello mondiale. Alfred, il film. È ora di ripulire questa città. Mi sembra un bellissimo film. Voglio vederlo! Stanno davvero girando dei film su ciascun supereroe! Un film su di te c'è mai stato? Ce n'è stato uno su Lanterna Verde, ma preferirei non parlarne. È il momento di averne uno tutto mio. Temo che non accadrà. Dirigo film solamente sui veri supereroi. La gente non ci prende sul serio! Teen Titans, in realtà voi non avete mai fatto niente di eroico. E quando abbiamo scoperto quella tavola calda e c'era tutto quel cibo? Non c'è stato neanche un crimine. Non avete salvato un bel niente. Abbiamo salvato lo spazio per il cammino! La faccia vostra! Avere un film è l'unico modo per essere considerato un vero eroe. Che dite di un arci nemico? Fermo lì! Deadpool? Deadpool? Cosa? Perché tutti pensano che sia Deadpool? Credevo che Deadpool fosse un buono. A proposito, lui dovrebbe dire che non è me. Cioè perché esisto da un secolo prima di lui. No, sono sicuro che sei Deadpool. Io sono Svado! Se lo facciamo diventare il nostro arci nemico capiranno che siamo degni di un film! Non mi interessa combattere contro un mucchio di assistenti e un mezzo robot. Accidenti! Tu non piloterai di nuovo il mio corpo! Tutto il mondo presto sarà sotto il mio controllo! Estruggeteli! How big is your army? A half a thousand. Alta! Peripotente! Watch me! Watch me! Watch me! Do this! It's always been more than you! We're fighting weights on the back of my crusher. Look! Watch me! Watch me! Watch me! Foo! E-at-back! Do this! Go on a Sharon! To the next 신! Can you be done foraphsticks? Then the last part one thought was tied up. Grazie a tutti